uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ragazzi ho un sacco di cose da dirvi nel video di oggi un video davvero interessantissimo sono state scoperte proprio da poche ore delle cose nascoste nei codici sorgenti di gioco nello specifico ragazzi nel video di oggi parleremo dobbiamo cominciare a parlarne seriamente della coppa del mondo la world cup di fortnite ve l'avevo già anticipata due o tre settimane fa ma ragazzi ce ne sono delle belle vi farò anche vedere il trailer ufficiale e vi spiegherò un pochettino che cosa sta per succedere la nuova trappola ragazzi la nuova trappola è una delle cose scoperte nei codici sorgenti la vedremo insieme e ovviamente anche delle novità nonché la data di rilascio ufficiale della patch 8.20 ragazzi la nuova patch in arrivo su fortnite voglio però prima ringraziarvi ragazzi di cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone grazie di cuore per il grande sostegno quando scioppazzate di prepotenza non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima però ragazzi la domandina dai mi piace farvi la domandina tipo ruota della fortuna ragazzi mi raccomando facevano le domande a ruota della fortuna mi raccomando ragazzi i vostri commenti qua sotto la domanda è molto personale quale standardo stai usando qual è quello che state usando adesso io ragazzi per chi non se lo ricorda utilizzo oramai da due season lo standardo recuperato a livello 100 stagionale del personaggio così per tirarmela un pochettino non peraltro ditemi invece qual è il vostro ragazzi lo tendo rigorosamente ad usare con lo sfondo relativo alla season cioè il precedente lo usavo con lo sfondo viola della season 6 questo che sto usando adesso è lo sfondo azzurro il ghiaccio della season 7 dimmi qual è il tuo standardo che stai usando qua sotto nei commenti ma quindi ciao alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere la nuova trappola eccola qua ragazzi è un'immagine troppo nitida per pensare che possa arrivare non in questa patch almeno questo è quello che penso io si chiamerà poison trap quindi ragazzi è una trappola velenifera che come vediamo dall'immagine non sappiamo molto assolutamente non sappiamo quanto toglie non sappiamo che rarità non sappiamo quando arriverà dove si troverà ma abbiamo solo questa immagine scoperta come vi dicevo ieri sera come vedete ragazzi sembra quasi che rilasci dei gas appunto veleniferi e è ovvio pensare che quando un player ci passi sopra sicuramente subirà danno magari come quello delle granate delle granate scorengia come le chiamo io non mi viene mai il nome quello tecnico non me lo ricordo secondo me questa ragazzi è una trappola che sarà epica vista così come vedete va moltissimo a richiamare gli scalini quindi un tema a zeko ragazzi che continua a farsi vedere anche se un po in secondo piano su fortnite anche le skin quelle che sono uscite il piccone insomma ragazzi ci sono un sacco di cose inerenti agli azzechi sebbene la season sia più concentrata sui pirati noi sappiamo che forte p games fa sempre queste cose però ragazzi questa è una grande immagine e ovviamente appena saprò di più lo saprete anche voi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra novità molto interessante in arrivo con la patch 8.20 lo avete già visto probabilmente nelle news di fortnite the floor is lava tutti conosciamo benissimo il metodo molto divertente che oramai da anni si va avanti a fare più o meno scherzosamente e invece arriva adesso una modalità dedicata su fortnite quindi ragazzi oltre ad essere una modalità che prevederà l'innalzamento della lava veramente nella mappa e quindi l'obbligo dei player a giocare sempre più in alto ci fa anche capire ragazzi come potrebbe presto succedere l'eruzione di cui stiamo parlando oramai da un po di giorni sul vulcano ragazzi tra l'altro questa immagine è molto interessante come vedete l'abbiamo riconosciuta tutti lo sfondo è tilt tower quindi pinnacoli ragazzi ma guardate non notate nulla di strano ragazzi quello che vi ho cerchiato potrebbe e sembrerebbe essere un nuovo edificio perché questo qua sopra di me il campanile questo edificio invece non esiste in questo momento a pinnacoli quindi è una curiosità che è stata notata e che ho notato anche io staremo a vedere ovviamente cosa succederà e come sarà la modalità tra l'allero e tra l'allà allora eccolo qua ragazzi invece il tweet ufficiale di fortnite che dice field burn quindi segui il bruciore il fuego si parlerà di fuoco in questa patch nella update 8.20 che verrà rilasciato mercoledì 27 marzo ragazzi noi lo avremo alle 10 del mattino quindi non dimenticate di seguirmi su instagram perché pubblicherò sicuramente se ci saranno tutti i leaks della pace che dovrebbe avere un downtime dei server e qua ragazzi c'è un elenco non ve lo sto neanche a leggere anche perché in piccolino non lo vedo con un bel po di fix che faranno in questa patch poi ne parleremo ovviamente mercoledì vi farò il video su tutta la patch notes come faccio sempre non vi preoccupate ma andiamo avanti ragazzi e parliamo davvero dell'argomento più caldo se volessimo restare a tema di fuoco la fortnite world cup vi voglio fare vedere il trailer ufficiale ragazzi che è davvero meraviglioso ce lo godiamo insieme che si è detto non vale tirare il cibo addosso gli avversari puoi giocare in ciabatte devi togliere le scarpe quando entri in casa non si gioca di sabato non sono a messi in cintura nera di judo mi è sfuggita solo l'ultima parte no scherzi a parte ragazzi questo era il trailer ufficiale della fortnite world cup ragazzi e che cos'è nello specifico la fortnite world cup è il campionato del mondo di fortnite ragazzi ed è davvero super interessante 10 settimane di qualificazione a partire dal 14 aprile ragazzi ogni settimana c'è un monte premi diviso di un milione di dollari ragazzi tanta roba stiamo parlando di 10 settimane di qualificazioni online che vi porteranno qualora faceste i punti necessari per la qualifica alla fase finale che come avete visto si svolgerà dal 26 al 28 luglio a new york io ve lo dico ragazzi proverò assolutamente a cimentarmi anche durante le trasmissioni alla fortnite world cup ci tengo ci tengo a provarci perché no perché no e ovviamente ragazzi è uscita anche una notizia molto interessante sembrerebbe che dalla patch 8.20 arriverà anche una nuova arena inerente alla world cup ma ve ne parlerò meglio nel video di domani io per adesso vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi in tanti al canale codice creator xiu derone noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao